Vediamo come gestire il magazzino con Microsoft Access 2010. Questo modello di database proviene da un caso realmente esistente, però è stato adattato e semplificato ai fini didattici. Al centro abbiamo due tabelle, la tabella dei prodotti e quella dell'inventario. Faccio riferimento al tutorial gestione magazzino con Access che è nella sezione tutorial del sito mc2learning.com. Quindi lì potete andare a vedere tutti i dettagli di come funziona questo database. Qui in pochi minuti vediamo di mostrare questo tipo di applicazione. Allora, l'inventario ricalca un po' la struttura dei prodotti con l'aggiunta naturalmente della quantità e del valore rimanenza e di una data, data inventario, quindi in sostanza posso avere più record inventari per lo stesso prodotto, però riferite a date differenti. Allora a sinistra, qui siamo nelle relazioni, abbiamo il ciclo del carico di magazzino, quindi fattori acquisto, fornitori, righe fattori acquisto. Non entriamo nel merito perché chiaramente quelli che seguono questo genere di tutorial sono già avvezzi, quindi si intendono già di questo. Quindi ci sarà una maschera di introduzione fatture con relazione 1 a molti tra fattori acquisto e righe eccetera. A destra abbiamo il ciclo di scarico o di cessione o di vendita, quindi analogamente righe fatture vendita, fatture di vendita, quindi la data è nella tabella fattura, sia acquisto che vendita, i clienti eccetera. L'unità di misura possono essere pezzi, quintali, chili, metri quadri eccetera naturalmente. Allora andiamo a vedere i prodotti. I prodotti di questo database sono delle pompe, semplicemente vengono da un caso reale in un'azienda di pompe idrauliche in Emilia Romagna. Sono 20 pompe, quello che cambia il diametro, le dimensioni e le caratteristiche, insomma arriva al 20%, quindi semplicissimo. Andiamo subito a vedere il pannello di controllo che abbiamo preparato per questa applicazione. Ecco, mettiamo al centro, consente di fare in sostanza le cose essenziali, quindi proprio in maniera sintetica cambiare innanzitutto nella tabella impostazioni, il tipo di valutazione di magazzino, l'IFO, last thing first out, FIFO, first thing first out, cioè ultimo entrato, primo uscito è l'IFO, primo entrato, primo uscito è il FIFO, costo medio ponderato è il terzo metodo. Questi sono i tre più comuni. Naturalmente non si può cambiare, lo sapete già da un esercizio all'altro, ma qui l'abbiamo messo anche per fare delle simulazioni in sostanza, questo è un strumento anche gestionale. Allora, poi abbiamo una casellina, aggiorna movimenti magazzino, che se le eseguo lui mi va a prendere in sostanza dalle righe fatture acquisto e righe fatture di vendita, tutti i record e me li va a portare sulla tabella movimenti magazzino. La tabella movimenti magazzino in struttura, la faccio vedere, ha naturalmente una data movimento, il prodotto, il prezzo di carico, di scarico, quindi abbiamo dei dati che provengono sia dalle righe fatture acquisto, sia dalle righe fatture di vendita. Vi viene calcolato un saldo quantità, però è progressivo, in sostanza viene tenuto conto di quant'era il saldo del record precedente, voi direte, ok, ma come facciamo nel caso di più prodotti? Niente, c'è una query che preleva i dati per prodotto e quando apre la maschera, lo vediamo subito, quando apriamo la maschera, per esempio, ecco, quindi l'aggiorna movimenti va fatto praticamente per aggiornare i dati delle fatture o delle bolle sui movimenti magazzino e che si può fare in qualunque momento. Quando apro la scheda c'è invece un po' di succo, cioè di codice che praticamente mi calcola, ecco, se apro per esempio questa pompa, la pompa 02, mi apre e mi calcola che cosa? Allora, il prezzo di carico c'è già sul record, mi calcola questo valore qua, cioè il saldo progressivo, perché ragiona nell'ambito, siccome i record sono ordinati per data, nell'ambito dello stesso prodotto, quindi chiaramente 1 più 2 mi fa 3, ok, questi sono dei carichi. Quando abbiamo lo scarico qui nel bello, allora si suppone che con la vendita del 9 novembre abbiamo venduto due pompe, siccome siamo a costo ponderato, il costo unitario, che è un campo precalcolato, viene calcolato tutte le volte che si apre la scheda, in questo caso didattico, ecco, nel caso di un archivio naturalmente molto grosso si potrebbe inserire un'altra routine o su un altro tipo di azione, ma non ha importanza. I fini didattici, quello che conta è mostrare come viene calcolato il costo unitario. Allora, nel costo medio ponderato sappiamo che bisogna fare la media ponderata appunto aritmetica dei valori di carico, quindi prezzo 55 per 1 più 67 per 2 diviso 3, 3 perché sono 3 le quantità caricate. Questo è un esempio volutamente semplificato per capirci, per fare il calcolo, diviso per 3, mi viene fuori 63. Se applico naturalmente il LIFO, mi viene fuori, siccome sono due le quantità, tutte a 67 euro. Se apri con il FIFO invece la routine, abbiamo una, come si dice, la routine di codici che mi va a ragionare, diciamo, sulle singole lotte, sulle singole righe della scheda movimenti, mi andrà a prendere una unità dal primo record, cioè a 55, la seconda me lo prende a 67. Mi farà 55 più 67, moltiplicato 1 perché sono due le unità, diviso 2 e mi viene fuori, quello che mi pare a 61 euro. Ok, quindi, l'inventario. Allora, l'inventario, se io faccio clic, dico a quale data vuoi calcolare? Adesso è stato calcolato già al 31 dicembre, se metto una data sbagliata, per esempio 31-31-2000, mi dice data non vale chiaramente. Se invece faccio 31 dicembre 2012, che è la stessa data a cui è aggiornato l'inventario, ce ne sono due in questo momento, uno al primo gennaio 2012 e uno al 31 dicembre, per ciascun prodotto. Mi dice, la data selezionata è minore o uguale a data di ultimo aggiornamento? Vuoi visualizzarlo? Sì. Ecco che mi visualizza col totale, al costo medico del valore. Il valore è calcolato semplicemente moltiplicando le quantità per il prezzo d'acquisto e il costo unitario, appunto, internato in base al metodo. E quindi questo si può benissimo anche, naturalmente, creare il report facilmente con l'autocomposizione e stampare, eccetera. Cos'altro? Allora, naturalmente abbiamo, per completare la piccola applicazione, le fatture d'acquisto, dove uno può scegliere il fornitore, la data, naturalmente questo ricalca un gestionale qualunque, è una relazione, cioè è una maschera con sottomaschera, relazione uno a molti, naturalmente, fatture d'acquisto con righe fatture d'acquisto, fatture di vendita con righe fatture vendita. C'è una sola fattura di scarico qui e due di carico con quattro articoli. Quindi, ecco, nelle maschere fornitori e clienti si può, i nomi sono di fantasia, naturalmente non sono inventati o anagrammati, si può cliccare sul foglio dati, in modo tale che io possa vedere tutti i fornitori e analogamente nei clienti è la stessa cosa, posso vedere tutti i clienti. Per il momento ci fermiamo qui.